...i grandissimi giocatori. Molto spesso il grande giocatore si accosta alla grande persona. Allora, parlavamo di un playmaker, Alejandro Montecchia, una grande persona. Guarda, io sono rimasto colpito da lui. Sono ancora amico con lui. Ogni tanto ci sentiamo con lui. Lui è stato a casa mia, l'ho invitato a casa mia a mangiare una sera, e ce l'ho nel cuore a lui. Indipendentemente da tutti gli altri, gli nobili, i campanarono. Cosa aveva di speciale Montecchia rispetto agli altri? Che rispettava tutti. Se io, per esempio, gli dicevo, mandavo a far benedire Montecchia, non si incazzava mai. Non l'ho mai, mai. L'ho visto incazzato una volta, gli hanno dato una ginocchiata. L'hanno fatta apposta, perché l'hanno fatta l'idea di Dio in quel giorno, a Fabriano. Gli hanno dato una ginocchiata su quattro cipete. Gli hanno fatto apposta, perché io l'ho visto che l'ho fatta apposta. Questo è venuto in bagchina, ghiaccio, fasciatura, tutto. Questo stavano rimontando. Si alza lui, no, devo giocare. Allora, Zonzi, no, come fai? Non si preoccupa, sto bene, sto bene. Ha rientrato, abbiamo vinto la partita con lui. A tuo avviso, quanto è valso l'apporto di un professionista come Alejandro Montecchia nella crescita di Manu Ginobili? L'amicizia. Erano troppo amici. Tutte e due andavano, avevano uno, ero, come debba dire, due fratelli. Ovviamente dire, guarda, stavamo andando in ritiro a Coso. Dove c'è stata quella furia tagliata con ieri, mi ricordo come. Insomma, in ritiro. Ginobili ci aspettava in un ambergo, rientrato dopo a Ginobili. Dovevo passare a prenderlo. Ho visto io Montecchia saltare da Puglani e gli ha preso i bagagli a Ginobili e portarlo su Puglani. Montecchia era più grande, a Ginobili aveva vent'anni. Montecchia era più grande, ma sì, è il nuovo. E! 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 Yeah, 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 yeah